buongiorno amore mio ben sveglia stai facendo colazione guardando il nostro video brava senti ascoltami un attimo puoi mettere un attimino in pausa che ti devo dire una cosa allora amore ti ricordi ieri che stavi litigando con vanessa perché vanessa ha portato a scuola tutti i fogli per disegnare e tu non avevi più nessun foglio per poter fare un disegno te lo ricordi ti sei arrabbiata molto allora la mamma ha pensato di farti il regalo più bello del 2022 facciamo una cosa prima fai colazione e poi te lo farò vedere cosa ne dici va bene allora buona colazione e ci vediamo tra pochissimo con il regalo più bello del 2022 a dopo cucciola hai finito di fare colazione sì ma sei pronta per il tuo super regalone prontissima ed ecco a te amore mio la tavoletta grafica lcd della cheerfan amore guardate che meraviglia posso aprirla ma certo amore io ve la faccio anche vedere ma guardiamo un po' questa tavoletta stupenda è bella ti piace? mi piace la penna se la faccio e certo hai presa? sì allora proviamo innanzitutto a vedere il funzionamento guardate un attimo posso anche mi insegnare guarda con la penna e con le unghie anche con le unghie ma è fantastico perché sono appuntite e fai un po' vedere questi colori della lavagnetta guarda che colori sono colori arcobaleno vero? sì ma è stupenda e senti un po' ti faccio vedere una cosa cosa? per cancellare basta semplicemente schiacciare questo cuoricino prova e per magia si cancella tutto subito ti piace? sì adesso voglio disegnare qualcosa vediamo un po' la poltrona allora prima faccio questo così voglio fare anche una persona sì perché qui la testa l'ho fatta un po' piana wow che bella le gambe della persona e le mani ecco fatto mamma mia dai capelli e gli occhietti? lei sono io questa sei tu seduta sulla poltrona vero? sì con questa lavagnetta Anastasia puoi liberare la tua fantasia puoi disegnare tutto quello che vuoi grazie guarda fatta mamma mia è bellissima ma si vede proprio che sei rilassata su questa poltrona eh? vero? sì adesso cancello prova a cancellare wow ma è magica questa lavagnetta si cancella in un attimo sì sì guardate anche una cosa che ho fatto io ho fatto un insegnocco che non si vede tanto non mi pollino che bello amore l'hai fatto tu? eh era già così amore è stato realizzato con questo bellissimo disegno di unicorno in omaggio nella confezione troviamo il manuale che spiega la funzionalità della tavoletta in diverse lingue mamma mia che meraviglia e questo qui naso un cuore con un naso a forma di cuore ma perché sei tu che sei un cuoricino ti piace questa tavoletta Anastasia? la consiglieresti ai tuoi compagni? diresti ai tuoi compagni di comprarla perché è bellissima? sì se la volete compiare la potete finire su amazon con il codice conto manesta conto 1 vedete il link in descrizione non si può solamente disegnare da questa parte anche con le unghie è anche qui dietro guarda wow ma si possono fare tantissime cose con questa penna e soprattutto con questa tavoletta eh sì Anastasia con la tavoletta led della cheerfan i bambini possono esprimere tutta la loro fantasia possono disegnare, colorare, contare i numeri e soprattutto non pasticceranno più sui muri o sul terreno mamme la tavoletta della cheerfan può tenere i vostri bambini impegnati per l'ore proteggendo i loro occhi anche per un lungo periodo senza la preoccupazione dell'abbagliamento e della luce blu vero Anastasia? ti stai divertendo tantissimo? sta scrivendo il suo nome, è tutto colorato, lo facciamo vedere? un attimo vediamo guarda qui grande e più piccolo amore Anastasia l'ho fatto un po' pieno perché non avevo più il sasso amore sei stata bravissima quanto ti piace questa lavagnetta? da 1 a 100 quanto ti piace? 150 150 che votazione alta brava guardate che anche la penna si può mettere qui ecco fatto bene quindi ha il suo spazio apposito per essere ritirata senza lasciarla in giro e rischiare di perderla vero? si allora se volete acquistare questa tavoletta della cheerfan lcd dovete andare su amazon e inserire il codice sconto vanessa code 1 ma le sorprese no Anastasia non finiscono qui e lo sai perché? aspettami qua ma guardate un po' ce n'è una anche per vanessa a forma di gattino che quando uscirà da scuola le faremo aprire perché anche per vanessa che va a scuola potrebbe essere molto utile per contare per prendere appunti per creare delle bozze noi facciamo tantissimi schemi per studiare e poi l'occasione migliore è questa lavagnetta per poter realizzare i suoi schemi personali e apprendere più facilmente la lezione quindi ci vediamo dopo con vanessa e apriamo la sua tavoletta a forma di gattino ciao ben arrivata vanessa come è andata a scuola? tutto bene allora come ti ho anticipato oggi ti farò una sorpresa ok? ad Anastasia l'ho già fatta prima ma ho pensato anche a te e si tratta di una sorpresa molto utile che ti potrà servire anche per allenarti durante i compiti a casa da scuola per prendere appunti sei curiosa? eh? guarda un po' cosa ti ho regalato wow! è una lavagnetta LCD dove tu potrai scrivere solo ed esclusivamente attraverso una penna l'apriamo? si sei curiosa? si Anastasia ce l'ha ed è questa unicorno la tua è a forma di gattino amore invece perché sei una gattina guarda che bella come con le unghie? si come con le unghie? Anastasia ha scoperto che si può scrivere anche con le unghie anche con il retro della penna si giusto ma con le unghie più diverse hai visto? i colori sono arcobaleno e oltretutto si cancella si cancella schiacciando il nasino del gatto brava Anastasia hai imparato subito è molto versatile è molto facile da capire molto intuitiva vero Ani? Anastasia ha giocato tutto il pomeriggio con questa lavagnetta vedere cosa stai scrivendo firma di Vanessa due questa e questa bellissima molto colorata poi questa devo ancora un pochino imbagnare hai visto che bello il design eh? anche il contorno è fatto proprio bene si impugna facilmente anche per i bimbi più piccini ti stavo dicendo Anastasia è più piccolina di te quindi lei può scatenare la sua fantasia attraverso dei disegni colorati così che non litigate più per la ricerca di fogli salviamo anche tanti alberi lo sai? lo sai perché il foglio si ricava dall'albero e per avere dei fogli di carta bisogna purtroppo abbattere degli alberi invece con questa lavagnetta puoi scrivere fino a 100.000 volte dopo 100.000 volte si scarica una piccolissima batteria che è qua dietro e si sostituisce facilmente ok? guarda adesso faccio un coniglietto pensa quanta carta andiamo a risparmiare e quanti soldi soprattutto ma non è un coniglio è un gacione tu Vanessa oltre che a disegnare e a liberare la tua fantasia puoi anche prendere appunti creare delle bozze per quando studi hai presente gli schemi che facciamo noi tutte le volte quando dobbiamo studiare? si puoi farlo tu su questa lavagnetta giusto? vediamo è un coniglio wow ma che carino si possono fare tantissime cose ti piace? tantissimo tantissimo amore consiglieresti alle tue amiche questa lavagnetta? si oltretutto le vostre amiche hanno anche delle sorelline più piccoline dei fratellini piccoli tipo mia esatto Asia Chloe e vabbè Chloe per Chloe sarebbe perfetta questa lavagnetta oltretutto è molto importante sapere che con questa lavagnetta non c'è il rischio dell'abbagliamento e della luce blu che si ha invece con altri dispositivi quali non so il cellulare eh già cosa sai fare? wow incrociamo le dita che vada tutto bene sempre allora Vanessa guarda guarda ok e invece la regaleresti la tua lavagnetta a qualche tua amica? no se vi è piaciuta questa lavagnetta amici andate su Amazon sul sito cheerfun poi mettete il codice sconto VanessaCood e la potete acquistare con il 10% di sconto potete trovare l'unicorno il gatto la voppe e il coccodillo brava amore bravissima brave bambine siete contenti di questo super regalo avete ricevuto il regalo più bello del 2022 evviva la macchina di carnevale guardate Vanessa come super impegnata non mi guarda nemmeno mentre parlo è appena tornata da scuola e anzi ti dirò di più dobbiamo studiare scienze direi che questa lavagnetta capita proprio a pennello cosa ne dici si mamma perché no prendere appunti su questa lavagnetta per scienze benissimo brava Vanessa bene ragazze bravissime sono contenta che il regalo vi sia piaciuto ricordiamo ancora il codice sconto per poterlo acquistare su Amazon per quanto riguarda la lavagnetta di Anastasia unicorno VanessaCode1 mentre per quanto riguarda la lavagnetta gatto di Vanessa il codice sconto è VanessaCode del 10% se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video e trovate in descrizione il link per acquistarli su Amazon ciao con le mani tutte e bocche ghiacciate con l'unicorno ciao ciao ciao